Migliaia di manifestanti si sono riuniti di fronte alla residenza di Silvio Berlusconi ad Arcore, chiamati a raccolta, tramite internet e facebook, dal popolo di Ola di Milano e dalla rete dei gruppi locali italiani. Un evento che non vede la partecipazione in alcun modo dei partiti, come dichiarato da un rappresentante del popolo di Ola, bensì da coloro che si ritengono stufi di un clima politico che lascia in completo stallo il paese. Berlusconi dimettiti, lo slogan che li accomuna. Un gruppo di manifestanti, circa un centinaio, ha cercato di raggiungere la residenza del premier, ma sono stati bloccati dallo sbarramento dei carabinieri.